Non c'è nulla di strano al riguardo. È solo che la tua intelligenza è stata dirottata dai tuoi ormoni. Non sei tu. Si tratta solo di comportamento compulsivo. Non è così? Quando eri un bambino, non importava quale organo riproduttivo avesse un uomo o una donna, qualcuno. Non aveva importanza per te. Dal momento in cui entrano in gioco gli ormoni dentro di te, ecco che non riesce a pensare ad altro. Tutta la tua intelligenza è stata completamente dirottata dai tuoi ormoni e vedrai che dopo una certa età, quando quegli ormoni, il gioco degli ormoni si abbassa, di nuovo non ti importerà e ti guarderai indietro e non riuscirai a credere che sei stato proprio tu a fare tutte quelle cose. Il corpo conosce solo una cosa, sopravvivenza e riproduzione. Non conosce nient'altro. Non è così? Il tuo corpo conosce qualcos'altro? Quindi, se stai alle leggi del corpo, potrai provare qualche piacere. Non che non ci sia. Non c'è nulla di sbagliato nel corpo. Semplicemente è limitato. Tutto qui. Non c'è nulla di sbagliato nell'essere limitato. Ma non è l'assoluto. Tutto qui. Essere limitati è un crimine. Non è un crimine. Non c'è nulla di sbagliato a riguardo. Ma vivrai sempre una vita inappagata. Tutto qui. Non importa ciò che possiedi, quanto possiedi, vivrai comunque una vita inappagata. Ora, tu pensi continuamente all'altro sesso. Poniamo che domani ti conceda un dono. Tutte le donne della Terra ti corrono dietro. Vedrai che vivrai comunque una vita irrealizzata. Sì, vivrai comunque una vita inappagata. Quindi sicuramente non ti farà andare oltre. Ti renderà forse un po' di piacevole soddisfazione. Un po' di dolore succederà. Non c'è proprio niente di sbagliato. Non sto cercando di renderlo sporco o di renderlo qualcos'altro. No, va bene, va benissimo. Ma vivrai nell'ambito del corpo. Se vivi nell'ambito del corpo, il corpo conosce solo sopravvivenza e riproduzione. Non conosce nient'altro. Il corpo in ogni momento della tua vita, non importa dove credi di andare, tu credi di essere salito sulla montagna, di essere sceso dalla montagna. Il corpo non sa tutto questo. Il corpo cammina dritto verso la tomba. Tu pensi di andare in tanti posti. Pensi, sono venuto in India, tornerò in Libano, sono andato sulla montagna, sono sceso dalla montagna. Niente di tutto questo. Ad ogni passo il corpo sta solo andando dritto verso la tomba, da nessun'altra parte che verso la tomba. Quindi adesso, perché sei giovane a causa degli ormoni, questo l'hai dimenticato. Lentamente, con il passare del tempo, diventerà sempre più evidente che sta camminando verso la tomba. Se tutto ciò che hai conosciuto è solo il corpo, e in ogni caso finirai per perderlo tutto, la paura diventa semplicemente il modo di vivere. Sapete, recentemente, forse non avete visto il notiziario, 4 o 5 giorni fa è morto George Best. Conoscete George Best? Ne avete sentito parlare? È stato uno dei più grandi giocatori di calcio. È morto. È morto appena prima del Wellness Program. Ho visto alcuni articoli su di lui. Questo tizio, il suo nome è Best. Era un grande calciatore, un talento naturale, ok? E ha fatto di tutto per godersi la vita. Veniva descritto come ogni star del cinema, ma ogni... sì, insomma, ogni attore famoso, modello, o dicevano qualcos'altro. Celebrità? Ogni... no, non celebrità. Ne aveva sempre una a suo fianco, con una o con l'altra. A volte con tutte e tre insieme. Ma superati i 35 anni, era un uomo distrutto, miserabile. Un uomo talmente distrutto, miserabile, frustrato e all'età di 56 o 57 anni è morto. La morte non è un problema. Il modo in cui vivi è il problema, non è vero. Ha vissuto una vita terribile. Aveva tutto, perché è la via del corpo. Se cerchi di rendere illimitato ciò che è illimitato, soffrirai. Non c'è alternativa. Le vie del corpo sono molto limitate. Se cerchi di renderlo il tutto, soffrirai come non mai. Quindi non farne il tutto. Sei un po' emozioni, un po' mente, un po' società, e cerchi di gestire la cosa in qualche modo. Ma non importa cosa fai. Se sei sincero con la tua vita, ti renderai conto che stai comunque vivendo una vita irrealizzata. Non è vero. Quindi non c'è nulla di sbagliato nel corpo, nulla di sbagliato nelle sue modalità. È soltanto molto limitato. Può giocare solo un ruolo limitato nella tua vita. Se cerchi di renderlo la totalità della tua vita, soffrirai, perché stai cercando di creare falsità. La verità della vita è che il corpo deve giocare solo quel determinato ruolo nella tua vita. Ora, se cerchi di estenderlo a tutto, porterai sicuramente sofferenza a te stesso. La sofferenza arriverà in mille modi diversi. Le persone che pensano di essere perfette, che a loro non accadrà mai nulla di male, a queste persone vedrete cosa succederà dopo un po' di tempo. La vita ha i suoi modi per piegarti e romperti e impastarti e macinarti, in mille modi diversi. Lo farà con te, nei modi più inaspettati. Sì? L'hai visto succedere alle persone intorno a te? Quindi non c'è nulla di sbagliato nei tuoi ormoni, ma è compulsivo. Quando vivi una vita compulsiva, stai vivendo la vita di uno schiavo. Non è così? Sì? Vuoi essere uno schiavo? Qualcosa dentro di te non vorrà mai essere uno schiavo. Non è così? C'è qualcosa in te che non può essere uno schiavo. Che tu sia schiavo di qualcosa o di qualcuno o quel che sia, ma una volta che sei schiavo, senza rendertene conto, lentamente diventerai una faccia lunga. Quando eri bambino, eri così, perché non c'era molta schiavitù. Lentamente, con l'arrivo di diversi tipi di compulsioni, senza sapere il perché, sta andando tutto bene nella tua vita, il lavoro va bene, la famiglia va bene, hai buone relazioni, stai facendo soldi, tutto, ma pian piano la faccia diventa sempre più lunga. Fai cose disperate per essere felice. Quando le persone diventano più ricche e invecchiano, vedrai che cominciano a fare cose sempre più disperate per essere felici. Non è così? Oh, non hai visto le cose che fanno sul pianeta. Lascia perdere la luna. Quindi la disperazione aumenta, perché stai cercando di rendere assoluto un piccolo aspetto della tua vita. Non funzionerà. E specialmente oggi, la cultura sta diventando questa, soprattutto nel mondo occidentale. Il corpo è tutto. Non è raccontabile la sofferenza, renditene conto, soffrono senza motivo. Va tutto bene, fisicamente va tutto bene. Dal punto di vista materiale non puoi immaginare di più. Ogni cosa è ben organizzata, sanità, assicurazioni, automobili, tutti hanno tutto, ma le persone soffrono immensamente. Quasi una persona su tre assume psicofarmaci solo per mantenere l'equilibrio mentale. Questa non è gioia. Se devi prendere una pastiglia ogni giorno, per rimanere sano di mente, questa non è gioia. Non è vero? Sicuramente sei sul punto di crollare ogni giorno, perché hai reso un piccolo aspetto della tua vita l'intera vita, tutto qui. Semplicemente la tua vita sta facendo pagare il suo prezzo. Quindi, non prendere quella strada. Ogni cosa deve giocare un certo ruolo nella tua vita, tutto qui. Se cerchi di renderlo il tutto, non funzionerà. essa. Grazie a tutti.